E' stato bravo Manuel a stare a riaspettare che arrivasse l'ambulanza Ah sì Occhio a che arriva l'ambulanza, l'automedica Ma dici che devo andare davanti a fare strada? E' perché alcuni adesso devono andare giù a Morbegno a fare benzina E' appunto non vorrei che li seguino tutti, vanno giù tutti a Morbegno E' no, infatti vai davanti E' forse facile Bene, sono tornato davanti a fare l'aprifila L'umore è notevolmente peggiorato Perché quando succedono queste cose qua Rimani sempre un attimo sconvolto Si spera sempre che non arrivi mai il proprio turno Bene fans, siamo arrivati sulla salita di Bema Siamo in ritardo di circa un'ora e venti Causa incidente Adesso andiamo su e mangiamo Perché abbiamo tutti fame Se apri fila? Sì Ma la faccia che fanno quando entrano nel tunnel Già che arrivano qua e leggono pista provvisoria Pensano che vanno a fare sterrato Galleria di Bema Non illuminata Non si vede un c***o C'è bagnato per terra La facciamo venire giù la galleria oggi E adesso iniziano i tornanti Boren Lascia passare? Sì, che vuoi Comun'è? Sì, che vuoi Sì, che vuoi